Il giardino del progetto case di Sant'Antonio è stato intitolato al giusto tra le nazioni Mario De Nardis alla presenza dell'ambasciatore di Israele Alon Bar. De Nardis è stato già insegnito nel 2022 dello Jad Washem, l'ente proposto per la memoria della più alta norofficienza civile di giusto tra le nazioni per aver salvato la vita di oltre 450 persone dal regime nazista. Mario De Nardis, funzionario capo della questore dell'Aquila durante la seconda guerra mondiale, nel corso della sua carriera gloriosa fu responsabile degli ebrei internati nell'Aquilano, si adoperò per proteggere le famiglie Billing, Fleischman e Dagan dai rastrellamenti delle truppe naziste in Abruzzo, salvandoli dai campi di sterminio, a rievocare i fatti storici nell'emozione collettiva degli invitati alla cerimonia, racconti di Jacob, figlio del sopravvissuto Manfred Billing, e dei pronipoti di De Nardis, Lorenzo Ferrante e Davide Pitone, oltre alla figlia Anna. Il luogo scelto è molto significativo per chi ha colto gli aquilani dopo il sisma e che ora avrà nuova vita, detto il sindaco, grazie alla realizzazione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, un patto anche tra l'Aquila e Israele per rinnovare l'amicizia. Sì, è una giornata molto importante per me. L'ambasciatore è onorato di essere qui oggi in questo giardino, ringrazio il sindaco dell'Aquila, i ragazzi che sono intervenuti e anche la famiglia presente qui all'Aquila. È molto bello ricordare, in genere quando si parla di Shoah e di vittime del nazifascismo, si parla appunto delle vittime, ma è bello ricordare anche chi ha salvato le persone. Mario De Nardis è stato uno di quelli ed è particolarmente incoraggiante che le nuove generazioni presenti qui con questa scuola possano tramandare la memoria di questo grande personaggio. Abbiamo voluto intitolare questo un luogo che è per le famiglie, per i giovani, che è uno spazio verde che ospiterà il villaggio della gioventù e lo abbiamo voluto fare con le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole e soprattutto con i bimbi più giovani a cui lasciamo l'insegnamento di una persona che non restò indifferente di fronte all'odio e che scelse la strada più difficile, quella dell'umanità.